buongiorno bella gente bentornati sul mio canale invece oggi vi porto a fare un giretto al leader oggi mercoledì così vi faccio vedere tutte le novità che ci sono buona visione e se vi piace mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità questo video vi faccio solamente vedere tutte le cose che ci sono questa tovalia per i capelli l'ho comprata è veramente bella ovviamente ho preso la nazione che è un colore che mi piace di più comunque ci sono tantissime cose molto 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 carine io ultimamente sto notando che il leader ha dei ottimi prezzi e anche fanno un sacco di offerte fatemi sapere cosa pensate voi e comunque se avete bisogno avete voglia di vedere dei bini un po particolare basta chiedere sia per negozi che proprio capelli sulla bellezza o trattamenti come sapete io sempre pubblico un mercoledì un video su acquisti o un video un po generico o comunque un po vado e invece la domenica pubblico sempre un video sui trattamenti dei capelli che trovo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.